Non solo la parco corsa, il Pionta finalmente continua a rivivere tutti i giorni, soprattutto grazie allo sport e anche ad Arizzo TV che dopo la diretta, il giorno di Pasquetta, ha sostenuto le giornate di avviamento alla corsa della Federazione Atletica Leggera che da martedì animano il Pionta fino a settembre. Il ritrovo ogni martedì è alle 19 davanti alla palestra tra via del Pionta e via Duomo Vecchio. Si inizia con una corsetta di riscaldamento, poi esercizi sul posto, allungamenti e potenziamenti. Poi si formano di gruppi di corsa con diverse velocità in base alle varie possibilità dei partecipanti. Fiore all'occhiello dell'avviamento alla corsa al Pionta è rappresentato dal fatto che le lezioni sono tenute dai struttori della FIDAL senza dimenticare che sono totalmente gratuite. Dunque è un'occasione da non perdere e iniziare a mettersi in forma, forse nel più bel parco di Arezzo con istruttori qualificati e senza spendere un centesimo. Questa forse è la migliore risposta al degrado riportando i cittadini nel loro parco e sono in tanti ad averne approfittato nella prima serata di allenamenti.